Pasqua e Pasquetta iniziano a presentare il conto dei festeggiamenti. Stamane un bollettino non particolarmente alto nei casi covid intercettati dai tamponi, ma con un'incidenza che schizza al 30%. Una percentuale quasi doppia rispetto alle settimane precedenti, tra 125 i casi con 1.082 tamponi somministrati. Un calo netto dei tamponi che si è registrato anche a livello regionale con 8.502 test, 1.946 positivi, con un 22,8% di incidenza. Il dato preoccupa anche perché, se si considera il periodo di incubazione del virus che va con la variante Omicron dai 3 ai 7 giorni, il boom dei contagi non è ancora esploso e la vera foto dell'andamento della curva arriverà la prossima settimana con un'anteprima in questi giorni a seguire. L'allarme è lanciato dai virologi più noti, ma anche dai camici bianchi irpini rappresentati dal presidente dell'Ordine Francesco Sellitto, che qualche giorno fa anticipato a ciò che accadrà tra un paio di settimane. Non si usa più la mascherina e questo atteggiamento più blando, permesso all'aperto, viene in realtà replicato anche al chiuso. Il virus circola e non è meno pericoloso, anche se le sue manifestazioni sono più blande per effetto dei vaccini. Ma gira troppo tra i giovani che hanno meno accortezze nel gestire distanze e protezioni individuali, portandolo in casa e colpendo i fragili in famiglia. Si spiega così la curva stabile o addirittura in rialzo dei decessi tra le persone anziane e fragili. Solo nella giornata di Pasqua il Moscati ha dato notizia di ben quattro morti per Covid. Una paziente di 76 anni di Montella, ricoverata dal 15 marzo nella Covid di geriatria. Due pazienti in terapia subintensiva del Covid Hospital. Una 89enne di Andretta, ricoverata dal 5 aprile. Un paziente di 93 anni di Mirabella e Clano, ricoverato dal 10 di aprile. Deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda Moscati. Un paziente di 71 anni di Avellino, ricoverato dal 7 aprile in terapia subintensiva e trasferito nel reparto di terapia intensiva il 12 aprile.